ruolatrice oratori benvenute benvenuti tutti quanti bentornati a quest'ultima live di need play dedicata a mouse ritter i ratti di campo di grano l'ultimo appuntamento per questa mini avventura che tanto minimo è comunque quattro sessioni abbiamo sempre detto che si può godere appieno un gdr in quattro sessioni dedicata a mouse ritter quella che vedete è mouse ritter in italiano è la scatola del gioco ma è il motivo del ritardo di mouse ritter che adesso vi spiegherò la scatola è meravigliosa bella grossa bella bella cicciona ve la vado a unboxare attacate la meraviglia e dura come la mia testa ma adesso vi faccio vedere qual è stato il parto che ci ha fatto sbiancare e ci ha fatto ritardare il tutto non per colpa nostra ma guardate un bel po guardate questa bella punch board come è totalmente storta le cose tagliate nel mezzo è stato abbastanza doloroso però guardate qua sotto guardate qua in basso questa qua in particolar modo considerate che sono tutte quante così quindi ci siamo scusate so che non vorrei dire parolacce ci siamo cagati addosso ci hanno detto a no ma si tranquilli cosa volete che sia lo schermo del gm l'abbiamo fatto rigido a differenza di quello di mouse ritter originale che è un foglietto invece questo qua è bello rigido ma guardate come l'avevano attaccato ok non so se vedete la cosa qua in sotto ovviamente per noi è stato inaccettabile questa cosa qua per fortuna la cosa non ha fatto subire ulteriori ritardi quindi questa invece è la scatola corretta questa qua è la scatola corretta dove tutto perfetto compreso anche pam il buchino ciao hello è venuta molto molto bella quella fallata per chiunque la voglia costa 200 euro e la vendiamo sono serio perché è unica quindi un pezzo unico diviene 200 euro ovviamente dentro c'è anche la super chicca che è ops dov'è dov'è il campo totale qua guarda che bello che sei il pennarellino di mouse ritter bellissimo bellissimo c'è tutto dentro ragazzi c'è c'è un quantitativo di roba folle vi faccio vedere partendo dal basso così metto tutto quanto in ordine il mega blocco con tutte le le schede personaggio facciamo vedere così che se non sembra vedete tutte le schede personaggio ce ne sono un botte e mezzo tanto morirete malissimo quindi ci sta poi i token di miele paletravi l'avventura presente dentro il manuale base la scatola base scusatemi i token con gli status i token con l'equipaggiamento anche vuoti voi se volete scriverci sotto potete scriverci quello che volete i token con le armature cioè lo vediamo con calma giovedì che adesso dobbiamo giocare andiamo a giocare vai no tu devi giocare Erika deve giocare Marco mi sta trattando molto male se non lo sentite non mi sembra di trattare male comunque se mi sta trattando molto male lo vedremo allora giovedì perché anzi domani perché marchi però mi tengo fuori questo qua quello dei turni con il pennarellino vediamo come vediamo usiamolo top eccolo qua riassunto delle regole schermo del game master molto bello e manuale molto bello bene mi hanno trattato male marchino grazie perfetto da te vi odio tutti vi metti i giocatori così parlate con loro e via ecco parlate anche i giocatori fate voi ciao felice fate quello che volete sa ma staremo noi ma staremo noi albe vai inizia pure no 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 ma c'è tranquilli non ci sono rimasto male tanto figuratemi voi io ci sono rimasto più male del fatto di questi 200 euro la scatola fallata che volevo prendere direttamente a partire da 200 euro scusami Erika aspetta adesso è arrivato a 205 perché sono passati un po' di minuti quindi è aumentato già il valore più invecchia più si e chi offre di più esatto non vedo errori in tutto ciò è un po' come Nicola più vecchio che cazzo dici scusami sei come il vino sei come il vino Nicola più invecchi più sei sapore rosso allora ragazzi beh ragazzi ragazzi benvenuti a quest'ultima sessione di mouse reader chiudiamo la nostra campagnetta la nostra interessante campagnetta dove stranamente non è morto nessuno quindi le mie conturazioni io mi muterò spesso perché ho un raffreddore devastante quindi c'è come sentite con la mia bellissima voce nasale anzi mi vado a mutare subito perché se no muoio aspettate non si è mutato no no eh no Nico non è che mi è sentito bene scusatemi vedrete su noi il fastidio di questa cosa noi quattro possiamo confermare che è un raffreddore molto forte sì 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 voi mi sentiate una preghierina per Nicola ogni abbonamento è una preghierina vabbè esatto via ogni amen è Nicola che vive di più ecco allora let's go l'altra volta è stata una sessione molto intensa non che mi ricordi molto bene perché ho 39 e passa di pebbre però mi ricordo che era molto intensa beh si può riassumere in Dune esatto io mi ricordo Dune infatti quando scrivo un riassunto mi sono ricordato molto il 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 rumore del l'isana game esatto l'isana topin l'isana topin l'isana topin mi ha fatto molto ridere Baldo c'è stato geniale è stato proprio proprio geniale del del bastone contro la contro come si chiama l'annaffiatoio quindi è stato molto carino e poi anche c'è il gatto che è stato attirato è stato tutto molto bello ma allora facciamo così facciamo un riassunto poi vediamo le parti che sicuramente mi sarò dimenticato come succede sempre ovviamente ho chiuso il documento chiaramente mi ricordo stento dove l'ho messo eccolo qua invece non l'ho chiuso stranamente sono più intelligenti quanto pensi a volte che è molto difficile questa cosa qua ha effettuato l'accesso come no voglio entrare come Nicola a The Gobbis utilizzo un altro account scusatemi ragazzi ma devo ecco qua eccoci qua poi invece alla fine di questa sessione presentiamo anche il prossimo Need Play quello che faremo dalla settimana prossima no vaffanculo quello che faremo dalla settimana prossima così almeno vi facciamo vedere che stranamente stiamo avendo molta costanza con le sessioni che è una cosa incredibile che non succede mai nei GDR la costanza se ci pensate è uno dei grandi dei grandi problemi tranne le nostre sessioni le nostre sessioni stranamente vanno sempre bene ok ce la sto facendo ok i ratti di campo di gramo ora che bello tutto il riassuntino delle regole allora leggo il riassuntino dopo aver salvato Sorborosso membro della guardia reale di Baffone III menti si nascondono dietro una radice imponente di un maestoso albero i nostri eroi percepiscono i lamenti soffocati di giovani topini e il sinistro vociare di due grossi ratti è chiaro quei suoni afflitti sono il triste richiamo dei cuccioli rapiti da Fiorestella decise a liberarli i valorosi compagni elaborano un piano ardito destinato ad attirare una delle serpe verso i ratti e con essa anche il faroso gatto della tenuta Messia Toulouse una volta liberati i cuccioli ritornano trionfanti a Fiorestella nel bel mezzo del comizio di Ignazio Mezzacona intento ad enigrare le azioni di Oliva Colubrina i quattro eroi difensori della tenuta irrompono tra gli astanti accompagnati dai topini raccontandoli in fausta verità durante i festeggiamenti per il ritorno dei loro figli Oliva Colubrina li accoglie nella sua dimora e svela loro uno scuro segreto l'attacco a Fiorestella infatti probabilmente è causa sua poiché ella nasconde il vero baffone terzo trovato agonizzante ai confini della città i nostri eroi dopo averlo curato scoprono dal re che lui è stato detronizzato da perfido fratello che lo ha sostituito con l'inganno determinati a rimettere il legittimo re sul trono i nostri eroi insieme a cittadini Fiorestella si preparano a battaglia imminente mentre all'orizzonte si profinano le ombre dell'esercito dei ratti pronti a scatenare il loro crudere assalto l'altra volta ci avevamo lasciati là se non ricordo male giusto? esatto abbiamo fatto una parziale notte serena esatto una parziale notte serena allora essendo questa qua una sessione dove non ho idea di che cosa possa succedere e mi sono comportato esattamente come mi comporto quando faccio con voi le sessioni OSR ovvero essendo qua una sola location nelle zone limitrofe ho preparato solo ed esclusivamente i mostri basta non ho preparato nient'altro non so che piani farete non ho idea di nulla non ho preparato agganci narrativi o niente perché non ho idea di che cosa vorrete fare quindi in base a quello che voi farete io mi spero di comportare di conseguenza quindi raccontatemi dove siete cosa fate quando sentite le urla disperate dei topi alla porta della porta scusatemi di guardia inizio di dell'alba cioè sta quasi alveggiando allora io come prima cosa tipo chiamerei il topo più veloce di Piore Stella e facendo usare quel tunnel lì che abbiamo usato noi per entrare lo farei andare dritto dritto verso Porto Mattone per calmare i rinforzi o almeno prepararli no 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 ma almeno prepararli cioè nel senso finito a Piore Stella almeno la tenuta può essere può continuare a vivere allora voi sapete che tra i topi comunque vi dico anche il nome perché è una delle specializzazioni proprio ed era uscito tirando l'altra volta scusatemi vediamo come si chiama c'è il cavalcapasseri non so chi l'aveva giocato l'altra volta ma quando abbiamo fatto la sessione c'era un cavalcapasseri voi sapete che esistono i cavalcapasseri sono dei topini spericolati che sono in grado di cavalcare i passeri ovviamente con un passero andare a Porto Mattone e tornare è un lampo magari è uscito a caricare la tavoletta se qualcuno si butta da 9 metri ma non avevamo no però per il tuono ma la guarigione la guarigione è carica ci lanciamo da 9 metri no non facciamo cazzate adesso il tavoletto di guarigione non è carica ha una carica si l'abbiamo usata no l'abbiamo caricata prima di andare alla veglia l'hai fatto tu si ok allora si l'abbiamo ricaricata l'abbiamo fatto lì poi ci siamo riposati e abbiamo recuperato i dadi l'abbiamo fullato ok allora è un fullo io quando sento voi vi ho raccontato che c'era all'incirca un esercito di 50 ratti quasi fuori all'interno quello che vi aveva detto Olivia Columbrina ci sono all'incirca una cinquantina di topi maschi e femmine che possono combattere ma nulla vi obbliga a combattere adulti cioè voi siete fortificati vi ricordate il villaggio di Firestelle era all'interno di queste quattro grandi rocce però davanti c'è un muro di legno dei tronchetti di legno quindi c'è che la parte è oggettivamente più nebole oltre ovviamente al tunnel scavato di lato dove sono presenti da cui siete entrati anche voi allora a questo punto andiamo a far cercare Messier Toulouse dal cavalcapasseri lo facciamo arrivare qui col gatto sai che ci potrebbe stare come idea soprattutto se facciamo barricare i topi nelle case e quelli che rimangono fuori sono eratti perché non andranno a cercare di distruggere case noi resistiamo finché non arriva Messier Toulouse e poi se entrano li prendiamo di sorpresa perché comunque giochiamo in casa però sai che io invece non andrò a cercare Messier Toulouse perché ho paura che il cavalcapasseri possa non tornare e noi abbiamo più possibilità del cavalcapasseri allora voi sapete naturalmente la velocità di Messier Toulouse è totalmente diversa e la resistenza di Messier Toulouse è totalmente diversa della vostra Messier Toulouse è il gatto della tenuta qualcuno di voi lo ha mai affrontato questo è importante è vecchio è un gatto vecchio io molto probabilmente io durante la guerra di Campo di Grano qualche volta sarà venuto a rompere le balle lì scrivimi Messier Toulouse vecchio parecchio avanti con le tre allora io me lo immagino questo gatto completamente arancione con qua dei baffi bianchi avete presente il topo di Bianche Berni Bianche Berni nella riscossa quello dell'orfanotrofio ecco me lo immagino proprio come quello molto anziano con magari una sciarpina per tenerlo caldo però ha questi baffi folti c'è questa parte qua del muso che sembra che gli facciano dei baffi umani tipo quelli di Nicom però bianco crema però nonostante gli anni ancora si dà da fare diciamo allora Messier Toulouse ragazzi cosa importante chi conosce se voi se voi incontrate un gatto non è che per forza lui vi attacca perché devo tirare la sua reazione magari a pancia piena ovviamente se lo vedete che appena ha mangiato è difficile che vi attacchi perché sarà magari sazio essendo anziano la digestione lenta quindi comunque ci sono degli attenuanti nei vostri confronti andare a cercare Messier Toulouse ovviamente non me lo sarei mai aspettato però si può assolutamente fare ed è molto figo anzi tiriamo per un po' di incontri casuali dovete però quello c'è il senso cioè se andate via tutti e quattro ah no però c'è Sorborosso che può coordinare l'attacco degli altri e ho un'idea orribile ci vestiamo come i maleratti così se alla peggio possiamo sempre inimicarcelo contro andare e attacca tutti quelli che hanno lo stesso uniforme di chi gli ha rotto credo che distingua da un ratto o un topo comunque non si è affamato o no secondo me sì ho capito appunto arriva lì però nel senso vedi un topone grosso così che la parentesi i gatti hanno anche loro un po' di tirome un timore per un coso grosso così però vabbè quello è un altro discorso ma magari a Fiorestella ci sono due cavalcapassari uno va alla tenuta uno sì due topi spericolati magari allora voi considerate una cosa importante non abbiamo mai parlato che i gatti sono è uno dei pochi nemici che è una taglia da banda armata il che significa che non può essere attaccato da topi comuni ma deve essere attaccato da una banda di almeno 20 topi per potergli far danno di fatto per potergli far danno come funziona ve lo leggo momento del master la regola anzi mettiamo anche la foto del master momento del master per formare una banda bisogna avere almeno 20 topi combattenti ed eventualmente un pari numero di seguaci per riunire una banda armata ai suoi ordini il tuo topo può passare un'intera settimana all'interno di un villaggio oppure può fare un tiro anti essere di volontà o pagare mille semini una banda però formata queste caratteristiche e ci sono dei valori in questo caso sono un di 6 punti protezione forza 10 destrezza 10 volontà 10 attacchi asci e randelle la banda ha un costo di mantenimento di mille semini a settimana gli sconti tra bandi armate e creatura loro portata funzionano esattamente come quella tra piccoli individui quindi fondamentalmente non c'è più la stat dei singoli personaggi ma è la stat della banda armata poi ovviamente i singoli topi se sono aggiuntivi agli altri topini possono disturbare rompere le balle e qualsiasi cosa per aiutare la banda armata adesso dentro fiore e stella ci sono 50 topini che possono fare una banda armata ovviamente se i giocatori vogliono creare una banda armata adesso non gli farò aspettare una settimana di tempo per reclutarli sono tutti che si devono salvare le chiappotte quindi sono i primi che vogliono unirsi ai giocatori bisogna solo stare attenti che si qua dopo non ammazzino Messia Toulouse perché magari può succedere anche questo fine del momento che basta ma banalmente invece di sacrificare tutti i top cioè almeno la metà dei topi che ci sono fiore e stella se andiamo noi i cavallcapasseri che andiamo in giro lo cerchiamo e poi lo attiriamo effettivamente abbiamo più possibilità di trovarlo ma a noi serve solamente per creare scompiglio ok sì ma comunque di fatto ammazzare su che ne so sono 30 topi ne ammazza ne ammazzati scusatemi ne ammazza 10 penso che i 20 topi rimanenti si facciano i conti in tasca e dicano forse oggi non è il giorno giusto anche perché poi ci sono i topini che li attaccano da dentro master dimmi cioè in realtà è un po' master e un po' barbados visto che barbados ci ha già avuto a che fare magari a memoria tipo di che ne so Toulouse arrivava sempre la mattina perché i gatti sono animali notturni quindi magari tipo adesso è l'alba ed è già pieno e quasi ora del pisolino cioè potrebbe essere un ragionamento anche quello che tempo fa che tempo fa tiriamolo giusto per guarda baldo visto che l'hai tirato ieri pioveva guarda tiramelo devo tirare un di di 6 aspetta un secondo te lo dico con esattezza da due secondi perdonami lista degli incantesi bande armate risorse per il game master eccolo qua fortuna viaggi incontri esplorazione tempo e vici eccolo qua progresso progresso trappola speriamo speriamo solo che non piova o i cavalcapassari ci dicono oh che usciamo con la pioggia ma basta la giungheria eh ma i passari non hanno i tergi è quello il casino oh eccolo ecco lo schermo 2 di 6 2 di 6 primavera quindi tirami 2 di 6 mettiamo i dadi così primo tiro io vedo io vedo un 6 più 1 bene vediamo anche noi un 6 più 1 poteva andare peggio poteva andare peggio poteva piovere ma va bene lo stesso quindi in totale 7 7 7 è nuvoloso ok allora da memore da topo memore tendenzialmente visto che è mattina adesso Messiae Toulouse sta cercando di cacciare i passeri che volano bassi quindi vicina l'albero perché tra poco piove quindi vicina l'albero un po' dove dove c'era prima la biazza e le altre cose ho un'idea arriva rucola bello cicciotto allora non dobbiamo mettere a rischio la vita dei cavalcapasseri perché possono servire più tardi durante la battaglia ci serve un'esca attaccato a un passero ci serve un topo volante che faccia l'esca davanti al gatto ma che cazzo io ho sempre sognato di volare leghi il topo sotto il passero così il passero sta in alto al sicuro e vola davanti al gatto con il topo guarda va benissimo spiegami però come dice un passero passero vieni qua per cortesia faccio un secondo che mi leggo intorno a te e andiamo davanti a un gatto ma ci pensano al cavalcapassero ma non ci sono i cavalcapasseri qua io ti ho detto che tra i topi esistono i cavalcapasseri non ti ho detto allora tutto il nostro piano va a signorine buonasera non c'entra nulla non c'entra nulla sappiate che tra i topi ci sono i cavalcapasseri ok e che significa che i passeri magari ci sono dei passeri che sono abituati ad essere a cavalcare dei topi poi vabbè non me ne frega un cazzo se tu non sai cavalcare un passero e muori spiaccicato ci sono affari tuoi ti sto dicendo che c'è questa cosa Barbados tu in che battaglione in che reparto eri nell'aeronautica te lo dico già Barbados non era dei cavalcapasseri Olivia non servia nulla io ero fanteria Olivia ma sterei in giro guarda no guarda facciamo una cosa facciamo una cosa visto che c'è una regola che non abbiamo ancora utilizzato ogni tanto in 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 se non sai se una cosa può succedere oppure no è esattamente come si faceva in Ose 2 su 6 3 su 6 4 su 6 va bene sono bagnani ma facciamo il 50% c'è un 3 su 6 possibilità che ci sia un vecchio cavalcapasseri qui dentro bellissimo in questo villaggio me lo immagino anche con la spilletta qua da passero argentato tiro vediamo 3 su 6 ma lo tiro anche pubblico 4 su 6 non c'è merda cioè miseria e niente non possiamo attirarlo in questo modo dobbiamo attirarlo in un altro modo no no c'è il senso non c'è un esperto cavalcapasseri nulla vi vieti di provare a parlare con un passero noi siamo vicino all'albero qualcosa del genere cosa barbados noi non siamo vicino all'albero giusto è poco distante voi no siete dentro a villaggio cioè facciamo cantare a tutti cioè facciamo urlare all'unisono a tutti i topi il verso del gatto così lo facciamo avvicinare 50 topi che hanno mia tutto ciò sono davanti con il conto a turni comunque ve lo dico intanto banalmente banalmente la stafetta potrebbe andare no secondo me no perché rischiamo di giocarci l'effetto sorpresa perché se i rati sentono io ovviamente ho calcolato a un certo punto della veglia di urna arriveranno no io volevo vedere appunto il battaglione se si vedeva cioè con cosa comporta come è composto se c'è appunto il re davanti è protetto assolutamente tu puoi andare a salire su una delle due torretti presenti sopra il cancello di legno principale e guardare che cosa vedi banalmente lo faccio giusto per vedere cosa si sta avvicinando cioè perfetto tu sali vedi innanzitutto sono tutti tutto il popolo spaventato i che trema sono sono molto spaventati sali su una di queste due torrette vedi che ci sono i topi sopra che hanno queste piccole lance sono comunque molto spaventati e capisci perché parecchio in distanza vedi che sta arrivando sul lato est quindi non dove siete arrivati voi ma dall'altra parte parecchi parecchi ratti stanno camminando nell'erba alta tu li vedi ma capisci che lo stanno facendo apposta per non stare dalla parte di Messier Toulouse comunque anche se sono i 50 ratti ovviamente i 50 ratti non la meglio su un gatto piccoli gruppi invece un ratto può fargli fargli le che pote dunque i 50 ratti sono tanti ah sono 50 quindi ho capito 30 la volta scorsa bene siamo anche 30 ho detto non mi ricordo ho detto 30 50 i topi e 30 i ratti se non erro allora 30 scusate ragazzi non mi ricordo va benissimo comunque sempre un botto è lo stesso di ratti dobbiamo trovare un passero mi sono innamorato di questa idea ora pretendo un passero domanda lì dalla torretta vedo più o meno se c'è Messe Toulouse in giro no se è troppo bassa non è così alta è bassa devi lasciare vederla ok ok se mi trovi un modo per trovare un passo io te lo faccio trovare un passo perfetto abbiamo delle sono molto fan dei giocatori quindi abbiamo alberelli o altri arbustini dintorni perché devo andare verso l'altro l'unico albero che c'è è quello da cui qui l'altra volta eravate vi eravate messi sotto l'albero centrale al mezzo della tenuta ok cazzo allora ai passeri cosa piacciono i semi semi io quattro semi ce li ho poi sono le monete di gioco i semi li avete li butto via volentieri allora allora mi serve qualcosa ci serve qualcosa di luccicante agli uccelli piacciono le cose che sveloce veramente quelle alle gazze è il problema che non so no anche gli uccellini sono attratti dagli sveloci che io io ho una catena potrebbe un pochino banalmente avete mai visto il telescopio avete presente il telescopio di ebugs life sì quello col filo del bella rugiada possiamo fare una roba di quello per fare una sorta di specchietto grosso ok perché dobbiamo mettere i semini i semini e poi fargli notare che ci sono i semini quindi fare qualche segnale luminoso in modo tale che loro vedano i semi arrivino lì e poi magari possiamo metterci d'accordo magari gli proponiamo qualcosa in cambio tipo Olivia sindaco può dargli una parte dei semi della città intanto banalmente mandare il messaggero velocissimo alla tenuta voi considerate voi considerate che non siete in grado di parlare con un volatile ok potete parlare con membri della vostra specie o con membri affini alla vostra specie con gli altri membri non potete parlare perfetto c'è la possibilità che qualcuno al villaggio sappia il passerese siccome Nicola sta per avere tipo un infarto no ah no ok probabilmente stava pensando a una bruttissima battuta ok topi e passere non vanno d'accordo mettiamolo così molto bene adesso prendiamo serie è molto difficile allora con questo altro genere di animali potete cercare di farvi capire ma è un pochettino come siete proprio specie diverse ovvio che se gli offri del cibo gli puoi far capire qualcosa solo essere intelligenti ripeto qualcuno magari è stato già cavalcato da un topo ovviamente se qualcuno lo cavalca e non sa come cavalcare un passero bisognerà andare di fortuna ci sono i tiri salvezza per quello cioè è rucola si spiace che assicuro sta sessione allora ce ne siete consci però ricarica la tavoletta almeno datemi la tavoletta che mal che vada ve la lascio lì caricata per terra mentre non ci sono dovresti averla tu la tua tavoletta io ho l'altra io ho l'altra però vabbè me la date aggiungo l'inventario ma voi mi state davvero dicendo che lasciate rucola da solo su un passero no no non da solo uno guida uno deve guidarlo il passero io sono attaccato sotto ah tu fai l'esca certo eh già allora momento del master in mouse reader ognuno dei vostri topi ha un segno zodiacale deciso all'inizio il segno zodiacale di rucola è stella ovvero spericolato e un po' coglione ma finora sei sempre stato coglione basta sinceramente cioè per essere un po' campione devi essere spericolato vedi un po' campione perfetto fino al momento master ragazzi dai su chi è che guida il passero lo guido io il passero lo guido sì 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 due cugine alla riscossa anzi Aristide desideri guidare tu il passero se no io potrei averlo saputo fare in una vita precedente ma non me lo ricordo ma la memoria muscolare di solito si ricorda anche dove io non mi ricordo e poi sei azzurro no quindi ti zico il cielo sì circa al momento è nuvoloso che è grigio però sì ora mi immagino tipo Aristide che sale sul passero e che sia chiaro le stronzate non è che vi aiuteranno allora se fate questo io voglio stare con Sorborosso a coordinare la difesa della cittadella io voglio provarci dai se non lo fa Jack voglio provare voglio provare io a cavalcare sapevo di poter contare su di te Aristide quindi scusatevi giusto per capire voi vi dividete adesso con un esercito che sta arrivando vi dividete in due gruppi sì perfetto e cosa facciamo tutti su un passero scusa oppure possiamo fare anche la roba di terra cioè nel senso nel senso voi sapete io sto segnando qua siamo già stanno passando parecchio tempo allora proviamo a chiamare vediamo quanti ne arrivano Aristide con me andiamo nel punto più alto della città e iniziamo a fare segnali luminosi verso l'alto con un mucchietto di semi davanti a noi ne abbiamo otto perché se tu ne hai quattro io ne ho quattro io ne ho sei no ne ho cinque ne ho cinque perfetto vi ho nove semini lì e iniziamo a fare segnali luminosi ok chi lo fa io e Jack ok no io e rucola io e rucola perfetto allora visto che l'idea di rucola è molto bella ti faccio anche tirare con vantaggio quindi puoi tirare due danni sappi che il rischio è che arrivi un corvo se sbagli siiii non c'è problema proverò a cavalcare anche quello allora che topi e cori altri sono uccelli intelligenti è vero è vero quelli sono i merli comunque no anche i cori il corvus corax è uno degli uccelli più intelligenti del mondo poi parlano è difficile da destrare però master che tiro devo farti ogni sessione si rimette in scena un film che finisca mettendo adesso scusatemi ma scegli tu secondo me anche avatar questo è avatar apocalypse now sento un gruppo teatrale allo sbaraglio non so che finisca questo va bene va benissimo no ma è georgia è georgia che vuole insultare è normale no ma mi piace c'è nel senso però non capivo c'è nel senso l'altra volta era presa mente dure questo è apocalypse now siamo quattro topi in cerca di monte mi piace l'odore di grano al mattino allora master basta cazzate cosa devo tirare tiro salvezza su volontà volontà bene tanto non ho tipo sette quindi va benissimo vantaggio e quindi con due si 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 accetti il fatto che arrivi un corvo si 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 accetto e li hai sbaglia entrambi io vedo un 13 o un 19 però se magari il corvo magari il corvo sa il topolese si certo il corvo lo sa perfettamente allora avevamo detto nelle dichiarazioni intenti giochiamo come se fosse una giocata fra di noi è esattamente quello che avrei fatto si si infatti moriamo allora normale che non sono lì con te tu vedi Aristide il tuo amico rucola con questa lucettina si adesso arriva arriva il passerino arriva il passerino quando tipo segnale di tipo di batman nel cielo di gotham no? cioè sul sole si stagna sta figura nera gigantesca è a terra sopra la roccia del villaggio un corvo un corvo è bello bello grosso rucola e visto che fai così lo spavaldo tirami il tu il tiro di reazione tira quando l'atteggiamento di una creatura è incerto mi devi tirare il 2 di 6 come sempre è tutto calcolato è tutto calcolato e andrà benissimo 5 5 è incazzato nero è molto scortese come potete tranquillizzarla vedi che lui ti guarda mi hai fatto scendere fino qua per cosa topino effettivamente è presto non ho ancora fatto colazione e ce ne sono addirittura 2 qua parla al tuo pese parla al tuo pese io sono tipo oh mio dio parla la mia lingua no tu non sai capendo cosa dici è tipo di aletto vedi che sta sbavando e sta sbattendo il becco io ti faccio tipo da interprete sì sì io allora faccio gesti come in Giappone quando non parlano l'inglese gli faccio no mangiarmi guarda là quanta gente quanti ratti stanno arrivando più buoni te lo dico già che non funziona c'è di che si avvicini a bagliare minacciosa master non possiamo puntare un faro sulle armature luccicanti dei ratti no è una cosa non è una garzolada è un corvo non è così master io provo a cavalcarlo come ho una rete gliela lancio sul becco e con quella cerco di arrampicarmi sulla tua testa e poi muoverlo come se fossimo in allora tirami due di sei per favore per vedere che canti ha questo corvo vediamo che cosa ogni corvo conosce due canti che hanno determinate cose cinque cinque ritirami uno dieci ritiro un altro si sei sei allora questo canto conosce il canto del passato il corvo vede il passato dei presenti non ho mai fatto violenza e poi in verità chi lode non può mentire finché non termina quindi vedi che il corvo infastidito inizia a cantare e vede il tuo passato tu non puoi mentirgli c'è qualche evento particolare che vuoi fargli vedere è importante questo eh sì sì gli faccio vedere di quanto ero un bravo topino di quanto apprezzassi la vita degli altri animali soprattutto le mie apine che trattavo come se fossero mie figlie gli faccio vedere che sono proprio una brava personcina le tosavo tutte le stati allora in realtà scusatemi in realtà il corvo è estremamente intelligente come creatura e nelle regole del linguaggio c'è scritto esemplari molto intelligenti potrebbero ignorare queste parole quindi e soprattutto se possiamo fare un TS di volontà per tentare comunicare ma avendo volontà 15 io ti faccio sì che puoi parlare al corvo mi piace parla il tuo peso meglio di me questo qua il corvo è un animale e il suo grande desiderio è quello di proteggere i luoghi sacri e segreti da chi invece desidera distruggerli io mi butto a terra con le mani in alto ragazzi scusate ma è meraviglioso io mi butto a terra con le mani oh grande signore del cielo la nostra terra in pericolo minacciata dalle armate dell'oscuro ladro di troni baffone non mi ricordo il nome Aristide Aristide siamo convinti Caligola che è uguale una volta conquistata la tenuta sicuramente espanderanno i loro domini anche sui luoghi più reconditi di questo giardino aiutaci oh potente punitore del cielo io sono un corvo donna non sono un signore dei cieli o cose del genere maggio il grado della tenuta maggio altre cose ma perché dovrei aiutarti perché non ci sarà più grano se i ratti conquisteranno la tenuta aglieranno tutto il grano per farne armi tu non puoi mentire tu non puoi mentire hai il canto della verità non puoi mentire è esattamente è esattamente quello di cui sono convinto ma come fanno dei ratti a tagliare un campo interno di grano che cazzo dici Federico che cosa i ratti devastano i ratti devastano c'è più che il presente prima non eri di questo colore ci sta lo immaginavo anch'io quindi signor corvo visto che non è il dio del cielo mi rialzo signor corvo allora stavamo pensando ma da quando da fattore red che sei diventato un poliglotta perché ora sono concentratissimo perché non si è fatto di erba gatta esatto non stamattina allora noi vogliamo attirare il gatto della tenuta contro l'esercito dei ratti lei non correrebbe alcun rischio in quanto io stesso fungerai da esca e come legato legato al suo corpo con una corda mi librerò nell'aria attirando il gatto scusa un secondo ricapitoliamo allora c'è un esercito di ratti che sta arrivando contro questo villaggio 30 ratti tu oltre a questi 30 ratti vorresti avvicinare a questo villaggio anche Messier Toulouse il gatto della tenuta corretto e per farlo vuoi che io ti porti in cero legato cioè quindi ti tengo per una corda e ti faccio sventolare davanti a Messier Toulouse esatto dopodiché io volo verso l'esercito dei ratti e vorresti che Messier Toulouse attaccasse i ratti esatto ha capito tutto dall'inizio ma e se si alleasse con loro e sbranasse tutti i topini qui dentro alla fine i ratti sono grossi armati questi topini sono morbidi sono topini beh sicuramente non è stupido ciò che dici signor Corvo però potrebbe magari spaventarli non penso che si alliebbero con loro i gatti non parlano rattese e vedendo arrivare il gatto sicuramente i loro ranghi si disperderebbero almeno in parte avremo un vantaggio tattico beh quindi dopo volevo letto organizzare delle squadre che attaccano i vari reggimenti separati io mi giro verso Aristide non è una brutta idea questa scusate come dicevo è una mattina noiosa se eventualmente dovessi chiedere e sfracellarti a suono io posso mangiarti vero si ah si si ha una condizione ha una condizione che condizione vedi questa tavoletta si e tiro fuori quella scarica di dardo incantato ecco a parte il fatto che ti rimarrebbe sullo stomaco ma potresti riconsegnarla ai miei compagni nel caso in che senso cioè ti faccio cadere così no devi complicarlo poverino non capisci no no nel senso cosa serve questa tavoletta scusami non mi fido cos'è non puoi dire bugie è una tavoletta magica che però scarica cosa fa spara delle ah no io non lo so io ero svenuto Aristide lo sa anche Aristide sta stendo il canto quindi non può non può non può mentire io mi giro cosa è che fare esattamente ma per cosa cosa fai te lo sei beccato in faccia cosa non lo sai no 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 l'ha preso Barbados a me è bello falcidiato e basta sono andati di appicchiare cosa fa io non credo di aver visto perché c'era la nebbia cioè c'era il casino della terra smossa quindi boh allora no mi dispiace se non so cosa fa non posso sicuro non posso giurarti nulla a parte il fatto che off topic non servirebbe a nulla perché devi cadere da 9 metri e toccarla beh sto per cadere se Gigi spiace che da sopra dai eh no deve essere il nome devessere a terra io da sopra allora niente vabbè sti cazzi quindi Aristide mi sa che abbiamo un accordo quindi trovami una corda ce l'ho ce l'ho io quindi lo leghi tu Aristide tu vai con lui io chiedo il permesso ma tu vai con lui Aristide con vuoi salire sul corpo te cosa sono venuta con te a fare fino adesso se mi dà il permesso sì no no è che le cose sono cambiate prima pensavamo arrivassi un passo adesso c'è un corvo gigante l'alternativa è lasciarti andare da solo dovevate fare un combattimento dentro a villaggio con un corvo e probabilmente siamo arrivati tutto calcolato master è andata bene ha solo 12 pp e poi ha 12 vuoi andare da solo rucola no ok quindi aspettaci qua signor corvo andiamo a riferire il piano anche ai nostri compagni arriviamo subito voi considerate ragazzi che il corvo è molto più grande di un passero cioè il corvo sono grossi ragazzi sono grossi un corvo 5 passeri eh un corvo 5 passeri cioè è gigante volendo potete starci tutti tranquillamente sul corvo ma è gigante un corvo può essere pieno di 5 o 6 passeri ma banalmente Barbando si vuole vivere no banalmente se invece di andare a chiamare Messie Toulouse cerchiamo di convincere il corvo a prendere solo il baffone terzo e lo portiamo dentro e ci barricchiamo così e sequestriamo solo il baffone terzo aspeh 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 il corvo vola sui ratti io mi calo giù e ma perché è stata aggiungendo layer di difficoltà e probabilmente di cosa c'è mi piace il corvo per prendere baffone terzo io ho capito ma ragazzi senza cattiveria non è che io sto immobile se i ratti vengono che arriva un corvo c'è iniziato a lanciarmi da qualunque addosso banalmente banalmente adesso se tu torni a dirci questa cosa qui Omure ti raggiungiamo perché vediamo comunque un cacchio di corvo che ti viene addosso possiamo fare così invece di complicarci la vita con Messie Toulouse che effettivamente contro 50 gatti potrebbe spelare se invece usiamo il corvo come bombardiere di collenoci e tipo sbaragliamo dall'alto intanto le forze nemiche e isoliamo il re così lo andiamo a catturare ragazzi voi avete visto dopo il signore degli anelli o l'hobbit non sono le cazzo di aquile che lanciano le robe lanciano le piglie infocate e spaccan tutto le noci le noci guarda che i corvi possono lanciare una noce e la noce possono anche mangiare degli oggetti i corvi ma poi il divertimento dov'è? ma mi fai guidare un bombardiere porca miseria voglio fare da esca con il gatto va bene fai da esca con il gatto l'idea originale è quella va bene vai io ti dico che è riferirci come fare il bombardiere al gatto va bene ti do un oggetto Aristide tirami un d6 per favore vediamo cosa succede tante le faccio dare voi i d6 per gli incontri che è arrivata adesso l'incontro sono passate tre ore io a rucola do un fischietto cinque niente perché nel momento in cui sta per arrivare almeno lo sappiamo ok mi dai un fischietto è il mio fischietto perfetto è il mio fischietto d'argento lo terrò come un tesoro quindi noi prepariamo intanto la la difesa bene qui cioè Barbados non lo vedo molto convinto sinceramente io per un cacchio ma perché è un pavido Barbados no no scusatemi ricapitoliamo piccolo rispondi più a Grey Oak no Grey Oak ti devi lanciare tu con la tavoletta addosso e ti devi lanciare da nove metri e toccare la tavoletta dentro un turno proprio da regolamento è lanciarsi da nove metri e torna da noi Aristide e rucola sul corvo Barbados e Jack a gestire difese sì insieme a Sorborosso per fare a Sorborosso va bene Sorborosso grazie compagni per questa avventura allora tornate dal corvo io mi leggo alla corda alla fine quindi siete pronti sì nella pelle Aristide lo imbrachi metti una corda intorno alle zampe dietro sopra lo metti a modi diciamo tracollina e come vuoi che se la metta il corvo è importante nelle zampe o in bocca cioè nel senso tipo facciamo finta come se fosse un cavallo se fa così tipo morso o se lo prende è così esattamente fatto così se se lo tiene così o se se lo tiene della zappa ah ma rucola cioè rucola rucola ah scusa tu vuoi mettere una corda in bocca al corvo no no io ovviamente gliel'avrei legato tipo cioè le mie braccia sono le sue ali tipo la corda passa qui si poi cala e c'è rucola che se vuole può tagliarsi e rucola posso dare un suggerimento ma uno piccolo ma vuoi darlo davvero io voglio vedere la scena giusto perché il barbatos reputa questo piano una stronzata ma almeno ho fatto di peggio in GQSR ma è sempre andata bene si si banalmente banalmente tu puoi ancora cavalcare il corvo dopo quindi è meglio che se si è toulouse afferra il topo non trascina anche giù il corvo sennò quello a parte che non ci aiuterà non puoi dare suggerimenti no ma se mi afferra la prima cosa che faccio è tagliarmi sono conscio della cosa io preparo l'olio bollente l'olio costa troppo acqua bollente ma no un pezzettino di burro rubato la tenuta lo fai sciogliere è olio bollente vuoi cercare del burro per dei ratti rucola hai preferenze per il becco o per le zampe signor corvo hai preferenze dai a me la responsabilità si per il becco allora perfetto alle zampe che il becco gli fa di due secondi esatto siamo stronti nicola ci sta mi dico una zampetta ok ti prende per una zappa vedi che si abbassa e fa prego salmi pure in groppa aristide è giusto sì io sono goffredo guascagli piacere signor goffredo goffredo il corvo best friend goffredo è il corvo sì 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 è appunto non eravamo presentati tipo alexa riproduci la cavalcata delle varchirie sali sul corvo rucola a te guarda ti metto proprio vai il corvo da due colpi d'ala ovviamente tutti i topini sono rintanati e vi pensano che siate due pazzi sì 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 batti totali ci sta io il corvo si innalza parecchi in volo vedi c'è tu perfetto io fletto i muscoli basta fletto i muscoli e sono nel luoto sì ma guarda ma alla fine sarà esattamente quella di Ratman e quindi esatto descrivimi descrivimi tu vai a te ti passo ti passo lo spot allora l'aria tagliente la sento sul mio muso da top i miei baffetti fremono mi guardo intorno voglio segnalare la presenza di Messiae Toulouse appena la vedo al mio amico Goffredo quanto vuoi volare? inizialmente finché siamo vicini a Fiorestella parecchio alto perché i ratti non devono individuarci beh no siete contro sole vedono vedono un corvo non puoi vedere un topino piccolino penso magari che sia una una freda o qualcosa non è perfetto voglio iniziare faccio i segni per guidare Aristide in modo che non si Aristide fate voi due io voglio capire cosa capisce Aristide ti faccio i gesti di iniziare a dirigerci verso l'ultimo posto in cui abbiamo visto Toulouse dobbiamo fare un giro intorno all'albero poi verificare vicino all'innaffiatoio e se non lo troviamo fin lì tornare indietro e provare a vedere se è più vicino allora c'è una cosa che voi sapete Messia Toulouse l'avete visto da due parti una volta vicino alla tenuta che sapete che sta spesso sotto il patio non essendoci pioggia non si deve proteggere dalla pioggia oggi l'altra volta l'avate visto in mezzo all'erba alta tiro io di 6 50 e 50 dai 6 perfetto è nell'erba alta a un certo punto volo svolazzando vedi che c'è Messia Toulouse ha ciambellato questo bel gattone rosso che si sta tenendo la coda e sta giocando con la sua coda e ogni tanto con un filo d'erba alto tipo le spighette che ci sono a bassa di quota a bassa di quota beh Risside dimmi tu quando ti abbassi cosa dici a Goffredo a Goffredo lo gestisco tipo dandogli le pacchette cioè tipo pacchetta sulla destra a destra pacchetta sulla sinistra a sinistra pacchetta al centro vai un pochino più basso niente pacchetta glielo hai detto prima sì sì ci siamo accordati perché è il metodo meno doloroso perché se no cioè non è che gli posso tirare le piume magari si indispettisce quindi abbiamo fatto questo ottimo sistema pilota destra sinistra considerate che un corvo anche vicino a un gatto è grosso un corvo quindi Goffredo plana no ma noi non planiamo proprio giù 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 cioè tipo restiamo in volo e spiegami come glielo dice Goffredo senti con l'aria addosso non puoi parlare eh con le pacchette cioè gli faccio ti prendo le pacchette Goffredo va giù verso il basso sì sì ma anche se l'ho attaccata non troppo basso tu vedi tu vedi teniamo quei due metri di altezza quando smetto di dare pacchette Goffredo sa che deve smettere di scendere no Rucola tu vedi Rucola che ti vola sopra perché è stato giù talmente veloce che è sopra tirato a due metri di altezza si rallenta Rucola no no Rucola va giù sei di circa a un metro e sessanta un metro e settanta da da Messia Toulouse che vedi che però non ti sta scagazzando lo fai con un voce di un topolo non capisce ehi sacco di pulci schifoso guarda su ma il nostro alleato non capisce ovviamente Messia Toulouse ti guarda vedi che si mette seduta e inizia con la coda il corvo senti che gli risponde e si abbassa oddio no adesso mi sente io chiedo Goffredo c'è qualche problema si abbassa tocca al suolo se me ne accordo io comincio a risalire la corda assolutamente tocca al suolo c'è Goffredo a risalza di un metro e mezzo Messia Toulouse la cordina nel mezzo c'è Rucola e ti guarda con i suoi occhi felini i miei pantaloni si appesantiscono di un buon dieci grammi io bisbiglio Goffredo c'è qualche problema Goffredo non ti risponde lunga vita al regatto quello che lascia le carcasse voi dovete sapere che i gatti hanno solo un grande desiderio di essere serviti e idolatrati da tutte le creature della tele ma nessuno ha chiesto informazioni su Messia Toulouse tirami due di sei Rucola aspetta aspetta mettiamo anche bastere giocatori quei dadi vai tirami due di sei questo non era calcolato dodici vabbè ma che culo che culo cazzo tutto calcolato c'è così è helpful in questo momento quel gatto quindi battere pure le tue preoccupazioni ora cavalli c'è Nicola 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 mi hai visto fallire nel fare le mie cazzate va vabbè però vabbè dodici col gatto cazzo ti ricordo che abbiamo tirato banane io ti dico tu fai quel cazzo che vuoi dopo mi stai sulle palle adesso è amichevole come puoi aiutarmi i dadi hanno parlato c'è un corvo è un gatto un aristide è un rucola ti dico la verità io speravo già tipo che che attacasse il corvo tu ti staccavi poi magari trovavi in modo di cavalcarlo no amichevole hai tirato dodici basta è l'inizio di una barzelletta è l'inizio di una barzelletta un gatto amichevole un corvo il gatto ti si avvicina ti si avvicina vedi che è anziano probabilmente gli ricordi uno dei suoi pupazzetti che gli avevano dato i padroni da giovani quindi vedi chi si mette vicino e inizia a muovere le chiapottine io mi prendo la codina mi tiro la codina e comincio a tremare con i pupazzetti vedi che lui ti dà una zappata no sei morto sei per terra e poi inizia a giocare con te quanto ha di intelligenza il gatto vediamo se è riuscito a fare ma nel mentre Goffredo non risponde ai comandi no però hai fatto 12 Goffredo è lì che ti guarda Goffredo è un traditore bastardo no è per capire adesso che l'ha visto placido devi capire che comunque Bessie e Toulouse è l'essere più antico della tenuta bisogna portargli rispetto ma noi non gli vogliamo fare del male lo so ma neanche io lo possiamo aspetta aspetta lo portiamo a giocare un pochino più in là se ti sollevi un pochino facciamo rotolare rucola no vaffanculo e Toulouse lo segue piano piano io adesso mi sgancio ma te sei il gioco no no tu sei in coscienza salgo su Toulouse allora fammi un tiro salvezza di volontà con vantaggio rucola oh no di nuovo oh no ho fallito dai magari fai uno no neanche confinta non si vede niente se non si vedono sono validi aspetta controllo di avere show dai no prima c'erano ecco ora sono arrivati niente si si no sono quelli di prima 14-18 z vuoi parlare a Messia Toulouse guarda dopo aver fallito quei tiri no Messia Toulouse è lì che sta che sta giocando con Teveni proprio che ti ha preso in simpatia c'è proprio capisci che non hai intenzioni cattive è il tuo predatore naturale ha mangiato probabilmente i tuoi nonni i tuoi avi però in questo momento non è assolutamente cattivo anzi ti sembra quasi simpatico che culo 12 con il gatto io gioco con lui prendo un filino d'erba gli regito un po' davanti gli faccio due carezzine alle zampette gli alliscio un po' poi piano piano una carezzina dopo l'altra vedo se gli dà fastidio che mi arrampichi su di lui no non hai capito hai fatto 12 hai fatto il cazzo che vuoi è lì per aiutarti questo momento mi arrampico sulla sua collottola voglio salirli sul collo io ho già capito tu vuoi cavalcare Toulouse eh beh se lo chiediamo io ho messo i gatti perché c'è messi sì ma sottolineo che nella versione che sto leggendo c'è scritto come può aiutare il topo con 12 ed è amichevole sì è amichevole cioè lui è amichevole hai capito perché ho bestemmiato dentro i messi io ma ti chiedo una roba perché hai fatto fare il tipo di volontà a quel punto eh perché hai fatto fare il tipo di volontà non ha perché volevo che dicesse qualche sua puttarata voglio che faccia qualche cazzata però devi però devi specificargli le conseguenze in questo caso allora banalmente spiego questa cosa a chi ci sta seguendo Batta non è abituato ad avere arleati cioè qualunque cosa di ostile trovi davanti o lo uccide o lo distrugge o scappa perché ovviamente è il giocatore OSR adesso è completamente impreparato quindi è tutto completamente improvvisato e la sua mente non riesce a meccanizzare no no era tutto calcolato allora rucola rucola visto che hai avuto un culo ignobile con un piano di merda che però è meraviglioso io lo vuoi Aristide viene premiata ancora di più perché è stato talmente folle di averti seguito sì ma infatti è la prima volta che qualcuno mi segue è la prima volta che mi segue qualcuno rucola io ti guardo ti faccio gesto per capire se tu vuoi essere slegato certo ok ma mi slego io perfetto riavolgo la corda io salgo su Messier Toulouse gli faccio le caratteristiche a sto punto come ha giustamente detto prima Albi avendo fatto tu 12 amichevole vuole aiutarti senti per la prima volta non il miagolio di Messier Toulouse ma la sua voce aia sinceramente avrei gradito pasteggiare con te giovane Toulouse ma hai evocato in me antichi i ricordi di quando Mr. Prinkle il mio primo giocattolino dato a me dei miei padroni piccolino come te cicciottino avevo una piccola molla all'indietro e me la caricavano e andava tutto in giro trevolante mi ricorda molto te l'ho distrutto anni e anni or sono hai un odore a me familiare forse mi sono nutrito di qualche tuo parente ma sono un gatto spero che la cosa non ti arrecchia fastidio or su dove andiamo è una giornata tranquilla sono anziano voglio divertirmi un po' poi vedo che conosci Goffredo mi ha portato molti spuntini quindi cosa posso fare per te oh beh signor Toulouse il nostro grande problema al momento è che un gruppo di ratti brutti e cattivi vogliono farci la pelle e io stavo pensando giustamente nella mia piccola testolina da topo essere inferiore che se i ratti dovessero sterminarci tutti lei non avrebbe più di che pasteggiare i ratti sono molti più infidi di noi topini così servizievoli e pronti a nutrirla quindi se potesse dare più una mano il ragionamento è oggettivamente inattaccabile effettivamente è molto più gustoso nutrirvi di voi e soprattutto non incorro in malattie oscene datemi da quegli schifosi roditori giganti quindi va bene saltami pure in groppa e andiamo a vedere di questi ratti in quello miei cari barbados e jack sentite dei grossi colpi sulla porta perché gran parte dell'esercito è arrivato sotto e inizia a sbattere con quello che è vedete un tronco perfettamente dritto è lungo di circa una trentina di centimetri vedete che sul retro ha come una specie di cosa di metallo fatto un po' a punta è una piccola vanghetta per farvi capire da giardino iniziano a sbattere fortissimo tenendola contro contro le mura di legno sono in dieci domanda scusate scusi signor master visto che comunque loro hanno perso tempo durante cioè ci ha voluto un po' di tempo prima che facessero questa cosa io potevo coordinarmi con no certo adesso io ti dico quello che hanno fatto loro ti ricordi che prima ti dicevo che erano distanti adesso sono arrivato tu adesso io ti dico quello che sta facendo loro infatti non li ho fatti entrare qualsiasi cosa tu abbia voluto da far bollire l'acqua o altre cose adesso sta a voi allora io adesso banalmente il compito nostro è allontanarli dalla nostra posizione quindi ho chiesto a Sorborosso ovviamente se conosceva tattiche effettive di come potessero attaccare e assediare la città prima di tutto quindi visto che avevamo visto potrebbe esserci la cosa della riete e comunque la porta non deve cedere quindi quella è puntellata con non so cosa la porta è molto puntellata ovviamente non è altissima quindi banalmente bastano che cinque ratti si mettano uno sopra l'alto e posso iniziare a entrare dentro i ratti sono molto più alti di voi topi e lì abbiamo dei topolini apposta con dei bastoni appuntiti che quando arrivano sopra danno le puntellate e li fanno cadere dall'altra parte questo qua dopo mi farete dei tiri Sorborosso ti dice che appunto loro sono avezzi ad accerchiare il nemico però non potendovi accerchiare perché c'è solo la parte davanti probabilmente si accalcheranno finché dopo non si arrampicheranno l'una sull'altra iniziare ad ascondare dall'alto fregandosi delle eventuali perdite fanno gioco numero avete presenti i ratti che si calpestano l'uno sull'altro e riescono a salire anche sui muri perché si mettono l'uno sopra l'altro ma come delle catene umane anzi i rattoidi però ti dice Sorborosso che voi potete avere l'effetto sorpresa poiché voi conoscete che c'è un'uscita laterale e potete andare alle loro spalle per quanto questo possa essere un attacco suicida esatto ma in realtà il fatto che volevo intralciarli davanti ok quindi in realtà immaginavo che ci fossero tipo delle spine di rosa della tenuta cose del genere che avessimo conservato e quindi nasconderle praticamente davanti prima di che arrivassero loro davanti alla 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 porta un po' sotterrate eh tipo i tripodi esatto però un po' sotterrate in modo tale che loro arrivavano e la maggior parte si faceva male i piedi e tutto quanto si considera che tanti ratti sono belli non sono debolissimi i ratti ne avete combattuti un bel po' specialmente tu Barbados è oltre i combattimenti degli ultimi giorni quindi sono sono impegnativi i ratti guarda ci sono i re i 10 ratti davanti tiro un di 6 perfetto tutti i ratti davanti quei 10 ratti perdono 3 punti protezione ok dopodiché succede quello che pensavi iniziano ad arrampicarsi sopra di loro quindi mentre sotto iniziano a sbattere altri 3 ratti salgono allora a sto punto l'acqua bollente l'avevamo fatta già con il focherello quindi portiamo non lo facciamo tutto insieme però cioè non voglio far scoprire tutte le nostre carte subito quindi se intanto i picchieri praticamente stanno dietro sì perché ovviamente si riappicherà cioè scusate si rifaranno le torri un ratti adesso mi interessa fare cadere queste il più possibile sugli altri vedi che ci sono degli arcieri anche tra i ratti eh eh ma tanto noi non non li non ci esponiamo sotto perché siamo sotto le mura praticamente li tiriamo su e si vanno dall'altra parte sai quando fai cadere qualcosa dal bordo così no sì Jack tu nel mentre cosa vuoi fare io semplicemente metto in sicurezza tutti i ratti tutti i ratti tutti i topi e li riporto nelle loro case in maniera tale che quelli che sono effetti non sono atti ad armarsi perfetto quanto meno sono sicuri l'accampamento è abbastanza numeroso assieme a tutti i topini combattenti come ho detto la Tota 65 una cinquantina anche se veri veri e propri combattenti saranno una decina non di più gli altri sono il fabbro il mugnaio il mercante che però eh c'è bisogna fare di necessità virtù assieme a voi c'è anche il vero maffone terzo sorborosso e olivia colubrina io a quel punto guardo olivia e specifico questo dettaglio tu devi portare baffone terzo tu assieme a un gruppo di topi dovresti portare baffone terzo alla tenuta perché se lui viene preso adesso e viene ucciso siamo fregati qui vuoi farlo andare via da solo è lunga è a piedi e poi c'è il gatto secondo me secondo me secondo me qualcuno deve coordinare cioè sta il più sicuro qua perché comunque non arriverebbe secondo me è anche ferito e tutto quanto secondo me dobbiamo l'ultima opzione è farlo scappare mentre loro cercano per la città si fugge e si nasconde secondo me conviene andare adesso che si stanno accalcando sulle pare sulla porta e sono concentrati qualcuno esce lateralmente quindi il sacrificio di alcuni topini ci daranno la vittoria però se effettivamente potrebbe arrivare Messi e Coulouse noi possiamo rintanarci sempre da quel tunnel senza farci vedere va bene allora resto a tenere in sicurezza e metto i topini che non sono atti alle armi a un luogo sicuro banalmente nella casa del sindaco perfetto che sai che c'è la parte sotto esatto quello che tu vedi inta parentesi Barbados perdonami nelle retrovie vicino a quello che si spaccia per essere il vero baffone terzo che in realtà è suo fratello Caligola vedi che c'è Ignazio Ignazio mezza coda il topo che prima c'era il comizio ed è pappa e ciccia proprio con il ratto abbiamo una freccia da poter rilanciare contro di lui tu frecce ce le hai certo adesso cosa fai? adesso quanto si sono accalcati cioè l'acqua bollente è stata fatta è stata puoi provare a gettarla ok allora altri tottopini con i dittali adesso faccio fare un tiro salvezza di forza sappi visto che non sono topini addetti al combattimento che se la sbagli vi beccate voi tutti quanti un D6 di danni ok allora lo posso fare con vantaggio usando praticamente le barricate che abbiamo messo davanti le picchettate che abbiamo messo davanti hanno creato dei praticamente degli scalini che sono comodi per buttarsi su quindi non si devono neanche arrampicare troppo e quindi possono far uscire solo le mani va bene ok quindi tiro due di 20 devo superare i 10 devo far sotto i 10 io vedo un 12 e un minchia un doppio 12 che sfiga bene si si cazzo purtroppo non sono topi a vezzi al combattimento quindi voi andate per rovesciare ma una marea di frecce inizia ad arrivare dalla vostra direzione per quanto siamo fuori solo le manine una di queste colpisce il polso di uno dei topi che tira giù la mano un altro si spaventa e si mette giù coprendosi il capo e purtroppo l'acqua bollente non è nessuno brutta meno male che sono di tali il futuro è che ho detto di 6 ero di 8 uno facendo a tutti quanti un danno non era neanche così caldo evidentemente però questo vuol dire che i di tali cadono al terra con grande fragore i topini si spaventano moltissimo vedendo del sangue dei loro simili e sono fradici di acqua calda e i ratti iniziano almeno i primi 5 ratti a entrare dentro l'accappamento dentro Fiore Stella ci sono 5 ratti Jack lo vedi anche tu ok allora se volete qua potete utilizzare una squadra una squadra ovviamente fa sempre danni migliorati contro i nemici ovvio che si eravamo già predisposti invece di praticamente erano nascosti sotto le case quindi escono fuori e li prendono praticamente di sorpresa oltre a voi due cioè Jack Barbados e una squadra ovviamente non che voi due fate parte della squadra no 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 allora praticamente i topi che sono lì sotto praticamente se presumo che vengano attaccati subito dai ratti quindi si aspettano solo quei topi gli altri che riescono fuori dalle case non se lo aspettano quindi vogliamo cogliere di sorpresa in quel senso perfetto guardatevi do tranquillamente voi la priorità dell'iniziativa ok quindi rammentano un attimo le regole del combattimento attacco messa a sorpresa ok perfetto quindi tiriamo tutti di 12 eh giusto tiriamo tutti di 12 io col mio ago ok ho fatto 4 perfetto ho fatto su primo devo fare un tiro salvezza su volontà no lo devo fare dopo scusate e dopo e dopo no lo fanno subito sono cani di erbe scusate ah mi zaga e si perché ha 3 ha avuto il 3 io vado di fionda perché se posso tirare tiro a distanza il primo il primo com'è che ha 10 ah no ha 8 di volontà benissimo ma è di forza no devi tirare prima sulla forza e poi dopo la volontà con gli altri sì 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 esatto l'ho tirato scusato di 10 scusate 18 non lo passa vedi che l'hai attaccato tu Barbados sì sì l'ho attaccato io scusami con che arma con l'ago con l'ago quando vedi che il primo ratto sta alzando la sua bandaglia contro il topo ferito che si sta difendendo tu immediatamente lo colpisci con la tua bandaglia sulla sua clavicola lui mentre la tiri fuori il ratto vede il suo sangue e caracolla al suolo probabilmente svenuto per lo shock del colpo Jack sta a te vado di fionda vai minchia minchia arco giuda quindi sono 3 forza 8 quindi sono altri 5 da 12 quindi 7 devo stare sotto 7 19 uguale la tua fionda è pazzesca lo colpisce la tempia fortissimo vedi che mentre appunto quest'altro ratto con la sua lancia sta per colpire Barbados di spalle tu vai con la fionda il tuo il tuo basso lo colpisce come diceva la tempia e di che gli occhi Barbados che sei sotto ti giri capisci il tuo senso senso del pericolo vedi gli occhi che li si girano all'indietro e probabilmente con un trauma cranico svenuto caracolla al suolo anche il secondo ratto madonna che culo ragazzi quindi ne mancano 2 o 3 3 erano 5 ok allora una squadra abbiamo una squadra fuori in automatico la squadra si la squadra contro uno solo lo disuntegra è un linciaggio ok quindi adesso ne rimangono 2 è esattamente quello che succede la folla inferocita voi sapete che le persone più calme in un periodo di terribile stress fa venire fuori tutta la violenza siete comunque animali istinti di sopravvivenza letteralmente smembrano uno dei ratti questi topini sono totalmente sporchi di sangue adesso li avevate visti i pokemon di tutti i facci e quasi spaventati adesso sono delle macchine assassine gli altri due ratti sono terrorizzati quindi tiro di volontà per il primo 12 che non passa di volontà per il secondo che non passa e i trambi si proprio saltano sopra iniziano a scappare si buttano mentre scappano proprio da una dimensione esattamente opposta da dove sono arrivati prima e sono dell'erba alta che fungono avete resistito in maniera egregia alla prima ondata i dadi vi sono propizi ragazzi credete sempre nel cuore dei dadi sempre importantissimo chiudiamo le porte chiudiamo le porte ragazzi sta a voi rucola rissider rucola io voglio in sottofondo la corno sonora della storia infinita deve rendi storia io mi ricordo il gatto che corre verso esatto ma io e Goffredo riusciamo a seguire Messiae Toulouse cioè adesso se 300 volte più veloce di Messiae Toulouse no 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 ma ci vorrei andare insieme una cosa che mi piacerebbe chiedere a Goffredo gentilmente è se può chiamare degli amici no no che sono stronzi no no degli amici non dei dei nemici degli amici suoi tipo i migliori amici una mano voleva voleva venderci al gatto così eh ma il gatto è la divinità di sto posto cavoli rucola sì voleva darci a mangiare il gatto non è che chiami degli amici io mi fido molto guarda che più cadavere di ratti ci sono più mangiano loro eh però è vero anche quello un amico allora c'è un fantasma di Barbatos che ti mette di fianco lì e ti dà consigli perché facciamo così ormai sei entrato un pochettino in sintonia con Goffredo ti chiedo di farmi un tiro salvezza su volontà per convincerlo ma se non lo convinci lui si offende perché pensa di non essere eh speciale per te e quindi ti disarciola e sei da solo e devi provare a salire tu su Messia Toulouse giocati in vantaggio per favore ok si si vorrei vorrei farlo con vantaggio no no io io ho 10 volontà cosa devo fare è un 50-50 dai che ce la fai devo fare con un di 10 no con un di 20 2 di 20 e stare sotto allora 2 di 20 signore signore qua ci giochiamo tutto eh non può andare sempre bene ecco io mi fido sì ma che culo sì 1 2 3 cioè non solo gli ho chiesto di chiamare il suo migliore amico è una grande prova di fiducia quindi adesso io 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 di meglio io di meglio Aristide tu ti ricordi qualcosa perché l'uno non puoi lasciarlo così eh Master mi ricordo qualcosa no fallo tu dai fallo tu decidi tu è apocalizzato adesso qualcosa di importante per questa situazione tu sei nato e cresciuta qualcosa che mi aiuta in questa giornata che mi dia coraggio tu ti ricordi perché sei blu sì perché mi è cascata addosso la vernice quel giorno mentre spiavo i tizi della tenuta non lo so il tuo manto era nero come i corvi esattamente come i corvi sai perché hai perso la memoria? perché sei un corvo no perché tu adoravi cavalcare i corvi ti è venuto naturale accarezzare sei caduta dall'alto hai perso la memoria ma quel momento ti ricordi di te a zampe aperte su un corvo dicendo sarò un topo ma il mio manto è uguale al tuo e in questo momento siamo fratelli con le braccia così pensavo tipo sto volando Goffredo sto volando però va bene meraviglioso allora guardo Goffredo perché all'improvviso gli dico Goffredo chiama Sandro è Sandro il corvo ragazzi sì sì Aristide sì lui ti guarda e fa come conosci Sandro il più antico tra di noi non me lo ricordo pensa che Sandro si vedeva spesso in giro con un topino tutto nero Goffredo tu sai tu hai letto nella mia mente vedi che lui canta e io adesso mi ricordo quindi lui vede tu sei il prescelto in quel momento da lontano si sente lo riconosci il soave voce di Frank di Sandro di Sandro si avvicina non serve neanche che tu dica nulla tu quando lo vedi salti sulla groppa di Sandro e ti dice solo una parola come i vecchi tempi amico mio io lo abbraccio quindi adesso hai due corvi abbiamo due corvi e un gatto e dei topi al satanatico in teoria sto tirando tutto quindi che se ne dica si può giocare anche così ma osritere perché sto tirando tutto lo state vedendo anche voi cioè sarebbero potuti morire una quantitativa infinito di volte in questa sessione è impossibile è tutto calcolato cioè io ogni tanto anche i sensi di colpa lo sapete quando vi devo ammazzare cioè i sensi di colpa quindi magari tiro dietro lo schermo e faccio dai se solo se viene il doppio venti gli ammazzano e voi invece sono già dico no lo giochiamo rav e state tirando pubblicamente e non morite ma come tutte le nostre campagne tra parentesi cioè bisogna credere Aristide a te prego descrivici cosa succede adesso la scena mi piacerebbe io me l'immagino così con nel mezzo Messiae Toulouse con sopra e subito sopra i due corvi di lato con le due con i due elicotteri di lato tipo Maverick Top Gun Top Gun Top Gun Scusami Albe devi concordare con me che io ho fatto tirare tutto quindi c'è non in teoria ma Alba è basito per quello abbiamo tirato tutto ma vuoi che ti dica qualcosa per curiosità io ho mai visto un culo del genere comunque Sonsiccellino ma neanche io devo dirlo il corvo amichevole il corvo c'è incazzato ma non gli attaccava il gatto amichevole il tiro per Sandro uno cosa devo fare e io spiego a Sandro la situazione gli dico amico mio un grande pericolo minaccia oggi i topi i ratti hanno lotto la tregua e attaccano Fiore Stella per favore aiutateci a disperderli così che noi possiamo rimettere il loro regittimole re che è un re di pace al trono che merita perfetto amico mio voi iniziate a correre ci mettete pochissimo ad arrivare Jack Barbados a voi voi a distanza vedete ah mi è venuta in mente una cosa Jack hai il fischietto porco il demonio fischialo a parte che mi chiamo Rucola ma se fischio nelle orecchie del gatto mi inchiappetta ecco mi è venuta in mente una cosa Master chiederei a Goffredo sì di consegnare un messaggio che scrivo su un lembo del mio mantello che mi strappo a Porto Mattone sul messaggio c'è scritto ma quindi adesso vuoi rinunciare a un corvo sì ma è un viaggio rapido per i corvi sono sicura che ce la facciamo ma stai sicuro no no ma chi se ne frega abbiamo mandato il messaggero arriverà abbiamo mandato il messaggero e abbiamo mandato già un messaggero a Porto Mattone allora no allora Goffredo sta con noi c'era stato un momento di ok no no ci siamo io ho detto il topino più veloce perfetto se la staffetta è partita io lo so siamo a posto Jack Barbados voi vedete in lontananza un gatto che arriva alla velocità della luce e due corvi ai lati io mi rientano in casa ma in quel momento sopra il gatto vedi che c'è un topo in testa che fa io svento il mio mantello rosso per la tenuta e per la libertà allora a parte che mi è stonato le orecchie allora visto che giustamente Jack si sta guardate che è saltata la camera un secondo ragazzi vi ascolto ah scusa posso continuare io è il gatto apre il master beh la camera è cyberpunk adesso vuoi di Nicola si che figa facciamo un momento musicale di intrattenimento adesso è proprio saltato il cavo video aspettate si è proprio saltato il cavo video quanto pare non so se ci sentite la regia ma adesso parleremo di cose diverse adesso visto che siamo topini dobbiamo cantare la canzone di Scenerella aspetta ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io non puoi mettere musica qua no no non posso mettere musica però la posso cantare la canzone di D'Andre no ma perché devi essere così banane aspetta la guerra di Piero ma questa è diversa no no ma questa è diversa ma questa è diversa questa è la guerra di Sandro no Alberto Alberto fai il bravo ci arrestano Alberto va bene il corvo canta crap e comunque bambini avete visto come non si gioca ma perché è così bello no no noi abbiamo giocato benissimo abbiamo avuto abbiamo creato tutto abbiamo creato tutto molto culo c'è questo qua sì ma la gente non ha il culo che ho io non può giocare così non può per me non è vero è perché deve imparare a crederci come fai tu quindi per questo vincerà vincerà i GDR ecco fatto ok ragazzi c'è qua un ninja a risolvere le situazioni ma è abbastante non so anch'io come cazzo sia possibile wow un applauso al master bravo master eccoci qua scusate per questa breve introduzione metto anche dritto la camera fatto quindi vai allora visto che ovviamente Jack deve difendere gli innocenti io subito ordino ai topini feriti di arretrare e di chiamare la squadra del gas cos'è la squadra del gas sono delle bacche che quando esplodono emettono delle spore che in realtà non fanno niente sono leggermente urticanti e puzzano un po' e servono per allontanare i vari predatori io voglio lanciarli lì davanti alla porta dietro ovviamente per far allontanare i ratti verso il campo quindi lanciarli di nuovo in campo aperto questo qua è un'ottima manovra diversiva che ovviamente permette a rucola d'aristide di arrivare Jack tu hai portato di salvo le altre persone giusto? si quando arrivi quando voi arrivate vedete Barbados vedete questa specie di polveriera come questa fumera di un colore giallognolo che si alza e arrivano sia i due corvi grossi che il gatto i ratti sono sbaragliati vicino alle rocce vedete che c'è il finto baffone terzo e e Ignazio Ignazio mezza coda ditemi voi adesso voi giocatori come volete gestire questa questo diciamo questi ratti che vengono sparpagliati maciullati dovete dire i traditori vanno portati in piazza no vado resterà solo Caligola allora fai firmare un nuovo trattato io direi che io e Aristide spargiamo la via la folla ammazziamo più lati possibili Jack e Barbados si occupano di uscire e provare a rapire dentro le mura il finto baffone e l'altro traditore maledetto che mi sta particolarmente sulle palle quindi voi sparpagliate tutti gli altri Barbados e Jack a voi allora loro sono distanti da noi a distanza quindi noi possiamo uscire tranquillamente nel coso sapete che i due corvi e il gatto per le vostre difese quindi non a sto punto cerchiamoli mettiamoli uno di fianco all'altro ovviamente portiamo con noi anche una squadra con una squadra fate tutti in automatico ragazzi ve lo dico e cercandolo andiamo lì a prendere tutti e due i tizi allora voi nel mentre rucola e arisside fate mettiamo diciamo un linee veli però non è che cacciate linee veli cioè li disperdiamo in maniera pulita disperdete il comunque si diverte coi ratti ma anche i i i i corvi prendono i ratti li lanciano in aria e quando cadono cadono si hanno mostri orribili si è bellissimo Jack Barbados voi andate con la folla di topini riuscite ad accerchiare ovviamente il finto mafore terzo e Ignazio mezza coda e li portate dentro e chiudete e gli canto questa magica massima di canzone dormi sepolto in un campo di grano non è una rosa non è un tulipano che ti infamveglia dall'ombra dei fossi sono mille ratti rossi basta perché la licenza poetica la volevo c'è qualcuno che può bannare no è è è è bellissimo è era un è è una volta finito diciamo il divertimento fuori per per il gatto e per e per i corvi comunque è un brevato momento anche di lasciargli andare cioè non è che diventare i loro cavalieri per sempre cioè adesso il gatto vi è andato bene ma quindi ruccolaristine date un addio ai vostri amici momentane io saluto Goffredo ringraziandolo tantissimo carissimo è stato un piacere voleva portarti l'omaggio al gatto però va bene lo stesso è stato un piacere vivere questa avventura al tuo fianco spero avremo altre occasioni di incontrarci molto divertente veramente molto divertente buon volo carissimo Goffredo che è un augurio di veramente buon auspicio tra i corvi grazie buon volo anche a te giovane aristide e se ne vola via c'è lì Sandro Sandro amico mio io devo chiederti un ultimissimo favore di mio vecchio amico siamo topi giusti non vogliamo che vengano commesse ingiustizie vogliamo che tutto il popolo sappia la verità quindi ti chiederei te ne prego se volessi intonare il tuo canto per la verità affinché i nostri prigionieri sappiano narrino la verità belle docca bravissimo aristide bravissimo vedi che a questo punto lui prende entra nel villaggio dall'alto con la testa ovviamente non tutto perché non ci sta ti appoggia dentro quindi vede che è un sei un suo amico cioè ti appoggia delicatamente dentro e inizia a intonare un canto della verità voi aristide e rucola voi l'avete sentito poc'anzi da goffredo capite che può essere detta solo la verità in quello barbados e jack entrano collegati ignazio e caligola lanciati per terra e lì c'è anche sappiate se voi volete che sia lì c'è anche il vero aristide il vero baffone terzo io vorrei io lo guardo e gli dico aspetta noi siamo ancora fuori c'è rucola da solo fuori con rucola possiamo depurre la nazione dei ratti ragazzi io vorrei dare un suggerimento a rucola noi abbiamo un traditore topo tra le fila potremmo darlo come premio a messi e toulouse aspetta no è un cenno no perché ci guardano anche i bambini quindi i bambini non succederanno nulla di tutto questo ma una folla inferocita ha fatto fuori dei topi quindi si no si è fatto un ratto io vorrei fare un cenno a barbados da lontano sperando che mi capisca io voglio sono lì non sto facendo veramente toulouse io una lacrima all'occhio mi scende sulla guancetta perché comunque per poco ma sono stato rucola al cavalcagatti che comunque per un topo sti gazzi mi giro come titolo eh si si mi giro poi mi rigiro verso toulouse faccio finta di tirarmi la codina per un'ultima volta e comincio a tremare nuovamente e poi mi defilo così lasciandolo ai suoi pascoli lui si mette fuori si a mangiare i cadatti esatto cosa che non voglio vedere quindi faccio che rientrare sono a posto è come un documentario esatto è come un documentario è la verità signore siete davanti raccontatemi la fine a sentire il canto in verità guardo rucola e gli dico ho mangiato io la torta di zia Luisa e ho dato a te la colpa perché avevo troppa fame tiro fuori un coltello e l'ho glielo pianto nella pancia no solamente resti tirare la torta siete davanti la folla è felice ma traumatizzata ovviamente per terra ci sono Ignazio mezza coda è il finto baffone terzo baffone terzo vero l'avete presentato voi oppure no 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 aspetta io volevo io volevo fare una premessa prima della fine della battaglia cioè appena finita la battaglia i ratti che abbiamo ferito e che sono lì li abbiamo salvati li abbiamo presi i prigionieri ma li abbiamo salvati sono scappati tutti no molti sono scappati quelli feriti quelli feriti e tutto cioè anche quelli che magari erano fuori dalla cosa quelli feriti li abbiamo presi i prigionieri sono legati però gli avete prestato i primi soccorsi ma tanto sono dei maleratti che morissero adesso io vi avviso io ho in catena il come si chiama mezza coda cioè io ho legato mezza coda e sono al fianco di Sorborosso e dovete dirmi voi se volete tirar fuori vero baffone terzo con Olivia oppure no cioè mi ditevi voi non voglio non voglio rovinarvi come vi state immaginando il finale io lo lascio a voi ovviamente baffone l'avevamo già presentato alla folla nostra però vediamo che fare fate fate io lo fai io sono felice per adesso io lo chiamerei raga è giusto ci sono anche baffone terzo il vero baffone terzo e Olivia vedete che baffone terzo quello vero quello finto appoggiato appoggiato Olivia perché come dicevo era ferito ancora si avvicina al fratello e gli strappa questi baffoni posticci che invece ha lui molto molto lunghi amici topi sì avete sentito bene ho detto la parola amici da tre anni la tregua stipulata da mio padre andava avanti fruttuosa per entrambi con alcune scaramucce ma nulla di grave come potete vedere colui che si spacciava per baffone terzo in realtà è mio fratello Caligolo l'impostore solo io baffone terzo tra parentesi sapete che sto dicendo la verità perché il canto dei corvi sono tutti quanti che è vero mi chiedo di lasciarlo a me lo riporterò indietro a campo di grano e farò in modo che paghi per le sue colpe e ovviamente la tregua è ristabilita e finché avrò vita le scorte di grano saranno gratuite per voi questo è quello che lui dice come reagisce la folla allora io nel mentre io lo ringrazio ma visto che dico la verità e io ho visto che mezza coda stava parlando con Caligola e vi faccio cittadini di Fiorestella questo che voi chiamavate vicino o alcuni di voi anche amico stava organizzando l'attacco con il malvagio Caligola quindi la decisione spetta a voi io poi mi volto verso Baffone Terzo e gli faccio Sire non mi rimane molto da vivere il mio ultimo desiderio è aiutare a preservare questa pace proponendomi come ambasciatore topo alla vostra corte in modo tale che avreste sempre un emissario amico che possa risolvere eventuali disguidi Barbados io ex demico e nuovo amico non potrei mai rifiutare questa tua proposta quindi sarò ben lieto di accoglierti nel mio regno e tenerti come ambasciatore della della tenuta per ciò che riguarda il cui presente Ignazio Mezzacoda io vi posso proporre di metterlo in gattabuia assieme a mio fratello visto che erano così amici vediamo se lo saranno anche nelle segrete del mio castello io rimando Olivia la decisione di Mezzacoda e i cittadini ovviamente alla squadra anche a satanata rimetto il giudizio quindi io volevo darlo in pasto a un gatto quindi non è un problema già è caristi di rucola è giusto che decidano gli abitanti di Fiorostella no secondo me ne abbiamo portato giustizia noi di Porto Mattone è giusto che lui venga processato a Porto Mattone rucola vabbè non me ne frega niente io ho cavalcato un gatto andate a cagare tutti allora come tutti i bei giochi decido ridadi lancio diventi pari va a Porto Mattone dispari facciamo decidere la chat è vero la chat topina cosa dice due Porto Mattone aia beh almeno sarà al sicuro da eventuali alleati che trova qui in quello sentite molta molta confusione e vedete che sta arrivando un distaccamento di topini tutti vestiti da da guerra verso Fiorestella specialmente si fermano terrorizzati perché fuori c'è questo gattone che li guarda oh no onesto c'è il gatto fermo e vedi che la la sindaca Seminei Adriana Semini si avvicina fa un capisce la situazione fa un piccolo inchino verso Messie Toulouse che continua a leccarsi e passa avanti con tutto l'esercito con il gatto che probabilmente si è scofanato di ratti fino a poco tempo fa ed entrano tutti quanti dentro Fiorestella immediatamente prendono in consegna Ignazio Adriana abbraccia subito Olivia e in quello Olivia guarda Adriana e fa ma effettivamente oggi è il primo giorno di primavera so che di solito i festeggiamenti per la festa di primavera erano molto più sfarzosi c'erano molti più fiori c'era un raccolto abbondante però adesso abbiamo l'occasione di festeggiare tra noi topi della tenuta e anche con il nostro nuovo alleato indicando Baffone Baffone Terzo il vero Baffone Terzo che è sorretto comunque da Sorbo Rosso mentre vi riposate viene allistito un grandissimo banchetto pieno di prelibatezze con un bel piccolo falò nel mezzo con i corvi fuori che cantano con un gattone fuori che dorme a pancia all'aria con la pancia a piera e con l'alleanza tra i topini e i ratti ristabilita ma soprattutto con quattro eroici topini che verranno ricordati negli annali rucola il cavalcagatti aristide il topo corvo barbados il guerriero saggio e jack il protettore del popolo topini e topine questa mini campagna di mouse ritter è finita è stata folle ma bellissima allo stesso tempo eh io ho tirato tutto quello che ho detto ai giocatori anche oggi è stato ragazzi io non ho preparato nulla se non alcuni nemici cioè voi ho preparato le stat di maffone terzo eh non mi immaginavo che sarebbe andata così soprattutto non mi immaginavo che i dadi vi fossero così propizi però la cosa bella dei giochi osr è anche questa no è tirare e lo stesso master deve rimanere sorpreso mouse ritter è un gioco di esplorazione le prime due sessioni sono state di super esplorazione le ultime due assolutamente no però alla fine è un gioco di ruolo abbiamo ruolato ci siamo affidati ai dadi senza preparare nulla quindi non mi sento di aver eh non aver rispettato le i codici del del gioco sr ma soprattutto mi sono divertito tantissimo quindi vi ringrazio grazie mille Albi grazie mille Erika grazie mille Maldo grazie mille Batta per avere giocato a questa a questa campagna spero che vi siate divertiti spero veramente che vi siate divertiti yes avete tirato il suo accennatore non è morto nessuno alla fine nonostante siano state molteplici occasioni di morire ringrazio anche la chat che è stata con noi per tutti questi per tutte queste sessioni quindi grazie grazie mille vi informo che da mercoledì prossimo Needplay continua con il frutto proibito la campagna di fallout che sarà masterata da Barbados ovvero da Baldo Comoldo quindi c'è ci saranno altri giocatori nostri amici non vi svegliamo adesso subito tutte le carte quindi c'è con sparatevi in questi giorni qua la serie di fallout che tra parentesi ha ricevuto delle recensioni della Madonna esce domani quindi guardatevela tutta così entrate già nel mood giusto noi ci vediamo a domani ragazzi e ragazze una cosa importante io devo partire alle 5 e mezza quindi domani il lead news sarà dalle 15 alle 17 dopo faremo anche il post però vi ricordo questo quindi non dalle 17 alle 19 perché devo guidare e farò anche un'astica guidare 8 ore domani quindi parto alle 5 mi farò anche la sessione mia solita del giovedì da giocatore col buon rucola il buon matta che mastera in macchina quindi c'è top però quindi ricordatevi domani di news molto sugoso con un sacco di cose fighissime però ne parliamo domani vi presenteremo anche faremo un'analisi approfondita di un gioco nuovo che lanciamo quindi vedremo anche un gioco assieme ci sarà magari delle stanze di qualche dungeon da esplorare mettiamola così e comunque vedrete domani nella newsletter che cosa che cosa verrà fuori io vi ringrazio grazie mille di nuovo un ringraziamento gigantesco ai giocatori per averci seguito vi ricordo che abbiamo giocato mouse ritter un gioco di baffi e spada se lo potete provare tranquillamente al al play e vi diremo domani anche se riusciamo a venerla la data della della nidscord quindi per giocare mouse ritter tutto un weekend se volete potete già preacquistarlo avremo subito i pdf sia della tenuta che del base che del base normale siamo già anche lavorando un po' un po' di figate perché stiamo guardando molto mouse ritter io vi ringrazio l'ultima volta vi auguro questa sera chi ha sessione di ruolare duro sempre noi ci vediamo domani per il per il mini news e giocatori grazie siete stati fantastici un abbraccio enorme a tutti quanti specialmente alla chat sono felicissimo di fare un format dove si gioca per non tanto per giocare ancora in più ma per farvi vedere i nostri giochi quindi è veramente fantastico ciao ragazzi e ragazzi a domani con i news ciao bimbi ciao 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 Ciao.